Possiamo un altro bellissimo Valde, sempre del reso secondo cese dei Tu hai bisogno di coi vittotti eh Angelo F Marco Zoi Grazie 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 Marco Zoi Beh ragazzi Non ce l'hai bene E se la trovi Di ma è fai nessuna dove? Si no cambiene Giusto? Non vogliamo mica perder un.... è vero non vogliamo capire un elemento così e allora ho un'idea del rinsuratore se no la cambia perfetto Marco Zoli